Esodo pasquale, partenze intelligenti e cantieri, consigli della Polizia di Stato. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, la Polizia di Stato, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale in occasione delle prossime festività pasquali, prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale. In particolare, secondo la Polizia, l'aumento del traffico in fase di partenza si concentrerà nelle giornate di venerdì 29 marzo e sabato 30, mentre in fase di rientro nelle giornate di lunedì 1 aprile e martedì 2 aprile. Per favorire gli spostamenti consapevoli dei cittadini, la Polizia di Stato ha messo a disposizione di tutti documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie peggiori e l'elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. La Polizia di Stato, prima di partire, consiglia a tutti di verificare l'efficienza del veicolo, di sistemare razionalmente i bagagli, equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura, individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali ed evitare pasti abbondanti ed alcol prima di mettersi in viaggio. Essere sufficientemente riposati, inoltre, aiuta sempre. Durante il viaggio, la Polizia consiglia di tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori, utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini, non distrarsi durante la guida con il telefonino, la radio o la sigaretta, fare soste frequenti, moderare la velocità, soprattutto durante l'attraversamento dei centri abitati, mantenere sempre la distanza di sicurezza, usare prudenza nei sorpassi, non impegnare mai la corsia d'emergenza, salvo casi eccezionali. Sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia a destra. Notizie sempre aggiornate sulla traffico sono disponibili con il numero verde gratuito 1518, le trasmissioni di Rai So Radio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio Rai e sulla Televideo Rai. Per informazioni sullo stato del traffico, sulla rete di competenza ANAS, è sempre possibile infine utilizzare l'applicazione Vai oppure telefonare al numero unico verde 800 841 148.